L'Istituto Zaccagnini di Bologna è la più grande scuola di ottica e optometria e il più grande centro scolastico polivalente del mondo della visione in Italia. Nel 2014 l'istituto ha completato un ventennio di innovazione e di sviluppo per affacciarsi al mondo globalizzato e migliorare le abilità pratiche degli studenti, l'internazionalizzazione delle relazioni e la ricerca di interdisciplinarietà delle conoscenze e delle attività professionali. Con l'avvio del corso di laurea inglese in optometria e pratica clinica si è aperto un nuovo ciclo. L'Istituto Zaccagnini è stato fondato a Bologna nel 1977 ed è impegnato da sempre nell'istruzione scolastica e nella formazione, specialmente in quelle dell'ottica e dell'optometria. Nel 1991 inizia una revisione strategica delle funzioni dell'istituto. Nel 1995 viene definita la mission come produttore di istruzione e di formazione d'eccellenza e parte il piano ventennale. In questi anni sono state create due nuove divisioni, l'Ibiza-Cagnini Vision Sciences Department dedicata ai rapporti internazionali e al corso di laurea inglese in optometria, la ZBS Scuola di Marketing e Organizzazione per gli ottici manager e imprenditori. A conferma della vocazione per i contenuti scientifici dell'ottica e dell'optometria e per le realizzazioni internazionali, l'Istituto nel 1996 lancia la prima edizione del congresso interdisciplinare, giunto alla diciassettesima edizione con un grande successo di partecipazione. L'Istituto Zaccagnini è presente con la Scuola per Ottici di Bologna, la prima scuola italiana di ottica per numero di studenti che negli ultimi anni ha compiuto un costante percorso di adeguamento all'innovazione e all'evoluzione della professione. Nella formazione, l'Istituto realizza un denso programma di corsi annuali e biennali di specializzazione e master monotematici di optometria. Nell'Università, l'Istituto vanta il fiore all'occhiello del corso di laurea inglese in optometria e pratica clinica, in collaborazione con la Life and Health School della prestigiosa Aston University di Birmingham. Inoltre offre corsi di formazione e seminari di marketing e strategia aziendale con la Zaccagnini Business School, ZBS. Fedele alla propria mission di qualificare in senso europeo la didattica, focalizzandola sull'apprendimento delle conoscenze pratiche ottico-optometriche, l'Istituto aumenta progressivamente il numero dei laboratori e la completezza e la modernità delle loro attrezzature. Nello stesso tempo introduce importanti innovazioni dei sistemi didattici, degli ambienti di apprendimento virtuale e delle attrezzature di connessione telematica delle aule, che portano a una maggiore qualificazione tecnico-professionale degli studenti dell'Istituto. L'Istituto Zaccagnini occupa una struttura scolastica di 1200 metri quadrati che include 10 aule per le lezioni, 4 ampi laboratori, una libreria con testi in italiano-inglese, aule studio, impianti sportivi. In concomitanza con il periodo di iscrizioni, l'Istituto svolge Open Day dedicati agli studenti e alle loro famiglie, che vogliono conoscere il settore dell'ottica e in particolare le opportunità occupazionali offerte dalla professione di ottico abilitato. È possibile visitare l'Istituto ogni giorno, in qualsiasi momento dell'anno. Bologna si trova al centro di un crocevia di sistemi di comunicazione, che la rendono facilmente raggiungibile in auto, treno e aereo da tutta Italia e dal resto d'Europa. Bologna vanta la più antica università del mondo, l'Alma Mater Studiorum, dove ancora oggi studiano oltre 80.000 studenti provenienti da tutto il mondo. Possiede un centro storico che è anche un riferimento per lo shopping e il tempo libero, tra i più antichi e meglio conservati d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.